Le auto elettriche stanno conquistando sempre di più mercato e automobilisti. Una nuova forma di alimentazione rispettosa dell'ambiente si sta progressivamente affermando. In Europa, per esempio, i veicoli elettrificati hanno più che raddoppiato le vendite. Le auto elettriche, così come le ibride plug-in, offrono la possibilità di essere ricaricate a casa, in ufficio o sul suolo pubblico. Ogni veicolo ha la propria potenza di ricarica, capacità di batteria ed il suo consumo. La durata della ricarica può variare da 30 minuti a diverse ore, secondo la potenza dell'infrastruttura di ricarica, comunemente denominata colonnina, quella accettata dalla vettura e dal cavo utilizzato, la temperatura dell'ambiente esterno e della batteria. Per mantenere una corretta temperatura dell'accumulatore e preservarne l'efficienza, la ricarica una volta superato l'80% può avvenire con potenza e velocità decrescenti. Ecco, tre pratici consigli per una ricarica perfetta. Verifica lo standard di ricarica del tuo veicolo, cioè la potenza in kilowatt, a cui puoi ricaricare in corrente alternata e o in corrente continua. Valuta sempre i kilowatt orari che ti servono per fare il pieno o per raggiungere la tua destinazione in base alla distanza, allo stile di guida e alla tipologia delle strade che percorrerai. Organizza le tue attività giornaliere anche in base al tempo di ricarica. Quando sei in giro, puoi fare affidamento sulle infrastrutture di ricarica presenti sul territorio. Per accedervi, sarà sufficiente utilizzare una card o un'app messa a disposizione dal fornitore del servizio. Occupa l'infrastruttura di ricarica solo per il tempo necessario al rifornimento e verifica sempre eventuali indicazioni presenti sul luogo. Il cavo con connettore di tipo 2 da inserire nella presa dell'infrastruttura di ricarica è l'accessorio più importante di cui avrai bisogno. Nella maggior parte dei casi, il cavo di ricarica è fornito con il veicolo elettrico, come dotazione di bordo. Nei punti di ricarica fast, il cavo è incorporato nell'infrastruttura. La mission di Enelix, leader nel settore, è quella di usare la tecnologia per trasformare l'energia in nuove opportunità. Oggi sono oltre 10.500 i punti di ricarica installati in Italia, con l'obiettivo di realizzare entro il 2022 una rete con oltre 28.000 punti di ricarica. Per ricaricare la tua auto elettrica fuori casa, puoi sempre fare affidamento sulle infrastrutture Enelix, in pochi semplicissimi step. Scarica l'app Juiz Pass, crea il tuo account, seleziona la tariffa e il tipo di presa di cui hai bisogno. Non ti resta che ricaricare il veicolo. Configurando le caratteristiche della tua auto all'interno dell'account Juiz Pass, potrai monitorare i kilowattorari, chilometri e batteria ricaricati. Quando avrai terminato l'operazione, interrompi il servizio, scollega il cavo e libera la postazione. Ecco due delle soluzioni di ricarica di Enelix, Juiz Pole e Juiz Pump. Juiz Pole è in grado di rifornire due veicoli contemporaneamente tramite logiche di Smart Charging grazie ad un sofisticato algoritmo di misurazione. Se invece hai poco tempo, prova Juiz Pump, capace di ricaricare completamente un veicolo in soli 30 minuti. Juiz Pole e Juiz Pump sono inoltre sempre collegate alla piattaforma di monitoraggio di Enelix per l'assistenza da remoto. Enelix utilizza tecnologie smart, semplici e veloci. Scopri un nuovo modo di usare l'energia. Grazie. Grazie a tutti.